Arrivo al tavolo dove ci sono quattro italiani, uno di fila all'altro, vedete fiume, abbiamo Luca Pagano, Alfio Battisti e Enrico Mosca. Madonna ce l'ho fatta a dirgli tutti giusti. Enrico, come stiamo andando? Parto da te. 115.000, però so un corto, prima di oriente. Torneo, quindi sei in un tavolo che vedo complicato, soprattutto alla tua sinistra abbiamo due Rossi giocatori? Sì, un tavolo complicato, però va bene, più stimolato. Assolutamente sì. Passo da Alfio, che mi sembra oggi tristissimo, Alfio, come stiamo andando? Porto, porto. Quanto hai Alfio? 31.5. 31.5, giornata difficile? Sì. Ma so che fra un po' arriverà un double up che ti riporterà su. Sì, gli ho già fatto fare due. E se vedo Luca ha messo un po' meglio degli altri, quanto sei Luca? No, sono 70. Eh dai, 70.000 sei in Avera, c'è un po' meno. No, che Avera, l'Avera c'è 100. Sono rimasso un po' indietro e 100 hai ragione, però sei il doppio di Alfio, quindi sei un po' meglio messo di lui. Sono il doppio di quello che avevo 20 minuti fa, quindi va bene. Bene, va bene. E l'ultimo che ci rimane è proprio Fiume, che è in una mano, non lo disturbo. Sta pensando, anzi, guardiamo insieme la mano. Eh, ha vinto il piatto. Grazie.